buongiorno amici di telegarde vicino e lontani stamattina siamo in località mazza arco quattro gradi e mezzo di freddo comunque noi che siamo qua il problema della settimana qua è che l'assessore provinciale gil mossi la comunità ai sindaci della busa e al presidente della comunità di valle malfer la soluzione decisa definitiva secondo loro del famoso tunnel che dovrebbe partire da questa zona qua in pratica località cretaccio e andare a finire sotto sotto il passo san giovanni alla famosa curva dei rospi allora il nuovo il nuovo progetto ormai ha desmentato voi vi ricordate che era il famoso tunnel una canna due cani tre cani quattro cani porco cane e a forza di farsi delle cani e ha deciso di cambiare tutto allora il progetto diventa molto più corto parla di un chilometro e sette chilometro e nove e in pratica il doveria venire fuori qua sotto e alla famosa curva della discarica della masa ecco questa che è la discarica il tunnel dovrei sboccare in quell'altezza la venire a far tutto in giro qua andare fuori dalle campagne e andare con un ponte penso che dovrei fare un ponte che attraversa la sarca e ci apparsi sulla strada del linfano e al località cretaccio ecco la la soluzione è semplicissima gli basta portare via un po' di questa roba che è qua e questa roba che è qua è una discarica che è trent'anni quaranta che è qua insomma ma è che un breve tempo sei mesi non nemmeno gli porta via tutta sta roba qua e la porta in inceneritore e la porta prima a Bozzano ecco allora non vediamo che qua dei tecnici delle persone vedo che in misura penso che sia a Zadrio che scomincia perché l'assessore Gilmozzi l'ha detto che nel 2016 guardate che nel 2016 l'è fra 40 dii nel 2016 parte già i primi progetti andiamo a vedere cosa che cosa che combina cosa che fa buongiorno signori che venireste a essere voi mi sono da telegarda sono qua che fanno un servizio su qua sul nuovo tunnel che vai fuori che dovrebbe sbuccare fuori a quassola ma e voi cosa sai chi che fai ma noi siamo dei tecnici della comunità delle valle che non manda a fare dei rilievi sul territorio qua dove verrà la fattibilità e non manda il vicepresidente pederniana proprio a fare questi sì che lei è della zona qua lei ha la competenza lì penso di sì e non manda lì noi andiamo a fare dei rilievi delle misure per dopo portarle in ufficio in pratica c'è dei tecnici che fanno dei conti su quanto lì ha un'esperienza in queste cose qua oh madonna qua io voglio portarla via avevo messo 30 anni a impienirla adesso e quando vuoi metterli a portarla via ma scusa ma il mio giornale che era su dai sei mesi agli otto mesi e dopo qua hai fatto due o tre tornanti dovrebbe essere una roba fattibile insomma no neanche si mette qua tutti gli extracomunitari a dare una mano no no minimo 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 a dare che era proprio dagli otto ai due o sei anni secondo me è un bel lavoro il garezone mio amico qua che è esperto lui tra l'altro in trasporti e perché la parte da lassù la fa queste due curve lunghe la riva quando che sembra misurare adesso e da qua la sembia zone verso il creare mi diceva giusto corregge se parlo male verso il creare l'ha girato via con le tre file qui dei pomeri perché non so se girato e dopo bisognava fare anche un altro ponte presumo che volerà un altro ponte sul sarco arco come venezia sennò come femma parla ecco e allora attraversa via e da qui c'è via zona va bene vi ringrazio e come avete visto qua la comunità del valle ha già iniziato a fare tutte le misurazioni con i tecnici personalmente come telegarda abbiamo un po' dei dubbi siamo convinti che i farà prima la cremaliera che parte da trento che va in quella famosa e quella famosa città del turistica che le povo no i farà prima quella dopo il resto noi non voleremo essere ossei del malagurio guarderemo tanto quant'è 40 anni che senti che guarderemo magari 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 quando vede che la discarica è un po' tanta un po' da portare via ma rimodifica ancora amico lì oppure continuano per la massa della ghezza la massa e continuano lì oppure un'altra soluzione anche pensa di fare tutta sta roba qua potrebbe essere quella di dire ma perché non tirare via il semaforo del NAC che magari con una piccola rotatoria piccolina lì risolveri anche tutta la coa che arriva fino al zoo a torbole che va fino alla riva allora da telegarda trentino da mi e dai tecnici beppe e dino della comunità del valle e sperando che sia buoni da misurare ben perché da quelle attrezzature che gammam goi me dubbi goi me dubbi che riesce alla prossima e arrivederci a tutti anche perché stamattina a quattro gradi e messa comincia a essere freddo